Eccoci insieme, ve l'avevo preannunciato, siamo come sempre con lo spazio di approfondimento, questa volta proprio direttamente con lo SPI CGL, perché parliamo di questioni di pensione, in modo particolare l'accento verrà puntato dal nostro esperto Giuseppe Di Girolamo della segreteria regionale del settore Previdenza dello SPI CGL, della 14esima anche. Salve a tutti e a tutte. Ben arrivato, ben arrivato. Salve a tutti. Allora, questioni importanti che ricorrono periodicamente, per fortuna che riscorrono a parlarne, perché altrimenti vorrebbe dire che non ce n'è proprio. Qual è la situazione? Beh, intanto finalmente una buona notizia, diciamo una boccata d'ossigeno, perché questo mese, col mese di luglio, viene erogata quella che viene definita la 14esima dei pensionati. Ecco, quindi è una... Eccola qua. Eccola qua. Sì, certo. Quindi come ogni anno, a luglio, adesso, chi ha compiuto, attenzione, chi ha compiuto 64 anni, poi vedremo, ci si vogliono anche altri requisiti, e può appunto, riceverà questa, chiamiamola, mensilità aggiuntiva, anche se è un po' improprio chiamarla così, però, per capirci bene, insomma. Sono tanti i pensionati e le pensionate che riceveranno questa mensilità. Nel Veneto sono un po' meno di 300.000, ecco, siamo sui 270.000, se non le pensioni più basse. E quindi, ecco. Quindi questo è un po'... Perché non fa accumulo con la reversibilità, viene calcolata? No, va in base al reddito. A proprio il reddito? Va in base al proprio reddito personale, quindi non quello familiare. Quindi diciamo che gli aspetti, poi vedremo nelle altre slide, appunto, quali sono i requisiti per poter ricevere questa quattordicesima. Ecco, quindi questa è un po' la notizia, insomma, del mese del mese di luglio, che per alcuni si anticiperà al mese di, a fine agli ultimi 5 giorni di giugno per la questione del Covid, per chi ha, diciamo, il conto corrente, non il conto corrente, ma sì, la pensione, insomma, gli viene pagata alle poste. Chiaro. Allora, vediamo anche la slide successiva. Quando nasce e anche perché nasce, poi vediamo anche tutte le altre modalità che possono interessare. Nasce nel 2007, col governo Prodi, su nostra richiesta, su nostra mobilitazione, insomma, perché veramente con tutte le manomissioni che sono state fatte alle rivalutazioni delle pensioni, ormai, come dire, le pensioni stavano perdendo tanto potere d'acquisto, soprattutto quelle più basse e da lavoro. Ecco, questo era l'altro elemento. Quindi siamo riusciti a ottenere questa mensilità aggiuntiva proprio per, come dire, per tutelare il potere d'acquisto di questi pensionati. C'è stata una prima conquista nel 2007, appunto, che riguardava una fascia di lavoratori, di pensionati e pensionate con un certo reddito, fino a una volta e mezzo il trattamento minimo. Poi vedremo anche di quanto si tratta. Poi nel 2017, con la legge del 2016, quindi con il pagamento dell'anno 2017, con Renzi, se non ricordo male, abbiamo portato quel limite di reddito a due volte il trattamento minimo. Ecco, quindi questo è già un primo requisito per ricevere questa quattordicesima, che come ripeto serve proprio a tutelare le pensioni da lavoro più basse. Ecco, questo è un po' il mio aspetto. Allora, quando si parla di più basse, di che cifre si parla? E poi al netto e all'ordo anche, capire, netto e all'ordo. No, 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 beh, ma è certo. Allora, intanto diciamo a chi non spetta, così facciamo già una prima, come dire, una prima, sì, esatto. Allora, intanto non spetta a quei pensionati che hanno una pensione assistenziale. Ecco, quelli che non ricevono la quattordicesima, perché proprio tende a premiare le pensioni da lavoro, quindi chi ha lavorato, ha versato contributi e quindi riceverà questa quattordicesima. Quindi non spetta a chi ha le pensioni all'assegno sociale, la pensione sociale, oppure l'invalidità civile, agli invalidi civili, eccetera. Ecco, queste pensioni sono fuori da questo meccanismo. Così come sono fuori anche i titolari di casse professionali, avvocati, notai, ingegneri. Ecco, questi sono fuori da questa partita. Ecco, queste persone, pur avendo compiuto il 64, pur stando dentro ai limiti di reddito, non hanno diritto alla quattordicesima. Non percepiranno appunto la quattordicesima. Quindi sostanzialmente nel massimo per generalizzare potrebbe essere il classico dipendente. Esatto, sì. Dipendente del privato e del pubblico. Pubblico e del privato, sì, non c'è una differenza da questo punto di vista. Non l'artigiano? Il lavoratore autonomo sì, però vedremo ha una piccola differenza. Però anche il lavoratore autonomo perché versa contributi. E questo è l'elemento, uno degli elementi. Ah, non c'è una cassa separata. Quelli che hanno la cassa separata. Esatto, quindi le casse professionali sono un'altra cosa. Chiaro, ok, quindi questa è una cosa importante da tenere a mente. Esatto. Quindi a chi spetta? Ecco, stendiamo la slide, vediamo un po', così ci aiuta un po' anche per i telespettatori. Si tiene conto di tre requisiti. Abbiamo detto l'età, quindi i 64 anni. Gli anni di contribuzione versati, ci sono tre fasce, poi vedremo, c'è la fascia fino a 15 anni versati, poi la fascia che va dai 15 ai 25 e oltre i 25 anni di contributi versati. Il terzo aspetto è proprio il reddito personale, ripeto, lo sottolineo perché è importante, perché questo aiuta molto a non cumulare reddito mio e quello del coniuge o altri, insomma. E quindi il limite qual è di reddito? C'è una prima fascia che è appunto all'uno e mezzo del trattamento minimo, che sono attualmente, ricordo, 515 virgola rotti. Quindi vuol dire un lordo annuo di 10.043 euro annui. Mentre invece l'altra fascia, quella più alta, diciamo che arrivano ai 13.391 euro, che sono appunto quello che abbiamo ottenuto in un secondo momento nel 2017, che riguarda le due volte il trattamento minimo. Se facciamo 515 per 13, arriviamo ai 13.391 euro. Quindi questi sono, come dire, i tre aspetti da tener conto. L'età, quindi devo avere almeno 64 anni, devo aver vessato almeno dei contributi, fino a 15, quindi avrò una quota. Consecutivi, continuativi? No, ma quando vado in pensione mi vengono totalizzati i miei anni e quindi quelli sono gli anni di contribuzione, insomma. Quindi dai 15 ai 25 avrò un'altra quota e dai 25 in su c'è una terza quota. Ecco, quindi queste sono le... Però per i lavoratori autonomi sono previsti tre anni in più. Tre anni in più, esatto. Questa è la differenza che dicevamo poc'anzi, del fatto che la differenza tra il lavoratore dipendente e il lavoratore autonomo è che invece di 15 anni dovrà averne lavorato, contribuito 18, perché è diverso tra lavorare e contribuire, 18 oppure 28 oppure oltre di 28. Perfetto. Il tetto massimo è 13.391,82 euro annui, giusto? Sì, esatto. Se andiamo alla slide successiva abbiamo modo di poter fare alcuni ragionamenti da questo punto di vista. Come vediamo sul lato sinistro noi abbiamo chi ha un reddito personale inferiore ai 10.043 euro, che sono appunto una volta e mezzo il trattamento minimo, e poi ci sono le tre fasce. Quindi in ogni fascia c'è l'equivalente della somma che percepirà con la mensilità di luglio. Quindi vediamo che chi ha versato fino a 15 anni i contributi avrà un quattordicesimo di 437 euro, chi ha versato oltre i 15 anni fino a 25 ne avrà una da 546 e chi ha versato oltre i 25 anni ne avrà una da 655. Chi ha il reddito più alto, che è l'ampliamento che abbiamo ottenuto nel 2016, avrà 336 oppure 420 se avrà tra i 15 e i 25 anni di contributi e oltre i 25 anni avrà i 504 euro di contributi. Ripeto, chiaramente agli autonomi, lavoratori autonomi o le lavoratrici autonome devono aggiungere tre anni a questo prospetto. Sì, non è una vera e proprio quattordicesima sostanzialmente. Viene detto quattordicesima perché va oltre le 13 mensilità. Esatto, però non è che sia una cosa. No, però insomma, se parliamo di pensioni al netto che sono sui 700 euro, 770, che non sono grandi pensioni, capisce che avere questo, diciamo, una tantum manua è un bel aiuto. Un bel aiuto, senza dubbio. Certo. Vediamo anche la slide successiva. Vorrei prima dire una cosa. Ad esempio, un pensionato che potrebbe arrabbiarsi, dice ma come? Io ho versato 26 anni di contributi ed ho un reddito di 13.400 euro, non prendo la quattordicesima. Insomma, ha ragione ad arrabbiarsi, dice come? Ah, giusto, però pelo insomma, praticamente. Per un pelo Martini persa la capa. Ecco, noi abbiamo pensato anche a questo, non è così. Nel senso che, perché altrimenti uno che ha 13.042 euro percepirà 13.895, quindi supererebbe quell'altro pensionato. Quindi noi daremo la differenza, cioè se io ho una pensione che è di 13.500 euro, quindi vado fuori di 100 euro, percepirò invece di 504, 400 euro, fino ad arrivare a quel tetto massimo, così come dire, è una sorta di causa di salvaguardia e così non facciamo arrabbiare anche quel pensionato che per 1 euro, 2 euro, 100 euro esce da quel limite. Quindi anche 50 euro, anche 10 euro gli viene riconosciuta fino ad arrivare al tetto massimo del limite più la quattordicesima che percepirebbe con il limite e quindi gli viene riconosciuta la differenza. Ecco, credo che sia una cosa importante da sottolineare. Per non sbagliare, è meglio sempre, appunto, andare a rivolgersi agli sportelli che sono di voi, siete specializzati in questo, fate fare tutti i calcoli, sia per non rimetterci ma anche per non farsi farsi illusioni. Guardi, molte persone hanno diritto, soprattutto quando ci sono le pensioni basse, hanno diritto a delle cose, a dei trattamenti integrativi, chiamiamo così, a delle integrazioni che vanno fatte su richiesta, su domanda. Questo bisogna ripetere sempre. Spesso non lo sanno e quindi sono soldi che perdono. Quindi noi diciamo sempre, venite da noi a controllare, fate un controllo della pensione, a voi non costa nulla. Se la pensione è corretta, benissimo, cosa lo è a volte, ma a volte, come dire, ci sono appunto questi istituti che scattano solo su richiesta, vengono elargiti solo su richiesta e quindi se uno non fa domanda, pur avendo tutti i requisiti per potervi accedere, ma non fa domanda, non li riceve. E a volte sono soldi, parliamo di pensioni basse, quindi sono soldi che aiutano molto. Beh, voi avete tutta una serie di casi incredibili. Ne abbiamo molte, alcune anche con soldini molto interessanti. C'è un termine di prescrizione a questo ribadito? Allora sì, ci sono cinque anni, noi possiamo tornare indietro, mentre l'Inps ne richiede e ci può tornare indietro di dieci anni, noi possiamo tornare indietro di cinque anni. Quindi possiamo tornare fino a 2016 in questo momento. Attenzione, attenzione. Insomma sono soldi. Cosa c'è da dire? Ci sono due cose interessanti sulla quattordicesima, se abbiamo ancora un po' di tempo. La prima è che non viene tassata. Infatti volevo chiedere questa, ma è netto o è lordo? La quattordicesima non viene tassata, quindi è veramente un bel aiuto, insomma. Questa è la prima cosa. E non viene nemmeno considerata ai fini fiscali. Cioè quindi non va ad inficiarmi delle altre cose a cui posso accedere. Quindi è un aspetto veramente molto interessante. Perché noi pensionati, questa è una cosa che non smetto mai di dire, noi nella spesa complessiva delle pensioni diamo di ritorno qualcosa come 52 miliardi di euro ogni anno. Cioè è una roba veramente, una cifra enorme, insomma. Quindi almeno questa volta abbiamo dato, come dire, un segnale di un qualcosa che appunto non solo non viene tassata, ma non va nemmeno a conteggiare ai fini fiscali. Credo che sia insomma una cosa che aiuta, insomma, da questo punto di vista. Questa è sempre parlato fino a, ma chi ha un reddito bassissimo magari, può ugualmente accedere? Come ripeto deve avere tutte e tre le caratteristiche, cioè l'età, la contribuzione. Quindi è fondamentale quella cosa. Perché pensavo tante signore magari che hanno lavorato pochi anni prima di avere dei figli. Guardi, non un po', l'importante è che hanno versato contributi. Sì, perché infatti è previsto anche sotto i 15 anni. Ah, è previsto anche sotto. Fino a 15 anni, non da 15 anni, è fino ai 15 anni ho diritto a un tot. Dai 15 ai 25 ho diritto a un tot. Ah, quindi ecco, tenere conto anche di questo, anche pochi anni di versamento. Esatto, l'importante è che la pensione non sia appunto quello che dicevo prima di quelli che non rientrano, cioè che non sia una pensione assistenziale. Ecco, questo è il limite che c'è, insomma, da questo punto di vista. Un'altra cosa, ad esempio, il mio reddito è di 10.300 euro, ma devo metterci anche la reddita... Io ho una pensione, ecco, non un reddito, ho una pensione a 10.300 euro. Devo metterci dentro la reddita catastale della casa, che allora mi fa andare fuori? No, se è la prima casa, no. Ah, la prima casa. Mentre in altre situazioni... Beh, in altre situazioni sì, ad esempio. In questo caso, sulla quattordicesima, il reddito della prima casa, cioè l'abitazione principale, non viene calcolato. Così come gli assegni al nucleo familiare, così come, ad esempio, l'indennità di accompagnamento, sono tutte cose che non influiscono sui limiti di reddito per poter accedere alla quattordicesima. Quindi, come si può vedere, è sempre meglio, a luglio, se uno vede, insomma, che è lì, lì, fare un controllo per capire se la quattordicesima la prendono. Ecco, io chiedo anche di mettere in onda l'ultima slide, perché viene da chiedere, siccome tutto deve essere domandato, quanto seconda arriva la quattordicesima, tutto deve essere chiesto, tutto deve essere domandato, nulla è dato per scontato, manco la pensione, quando uno va in pensione, se uno non la richiede, non gli arriva. La quattordicesima, come si attiva? Come viene richiesta? Diciamo che la quattordicesima si attiva d'ufficio, cioè quando io ho questi requisiti, l'Inps mette in pagamento la quattordicesima, però è a luglio. Oppure, ad esempio, se io compio gli anni a settembre, io sono nato a settembre, compio gli anni, 64 anni a settembre, ci rimetto tutta la quattordicesima del 2021? No, io percepirò settembre, ottobre, novembre e dicembre, i quattro dodicesimi della quattordicesima, quando li percepisco alla fine dell'anno, che è un anno nuovo, mi viene comunque riconosciuto, non a luglio, chiaramente, perché io non ho ancora i requisiti, però da settembre in poi maturo i rati che mi saranno riconosciuti a fine anno. Ecco, questa è la roba. Ripeto, è vero che l'Inps mi dovrebbe pagare d'ufficio, però non avendo magari tutti gli elementi, non la mette in pagamento, perché magari risulta qualcosa che fa superare il limite di reddito, oppure ritiene che non ci siano le condizioni. Quindi è sempre meglio, come dire, chi è in queste condizioni, insomma, un sensato 2enne, un sensato 3enne, è inutile che viene, insomma, però un 64enne in su, se vede che più o meno il limite di reddito è lì, se ha degli anni di contributi e vede che non arriva nulla, è meglio che viene a fare un giro che controlliamo che cos'è. Non solo, ma conviene comunque controllarla, anche se percepisce, perché per esempio magari l'Inps gli riconosce 546 euro, mentre magari lui ha diritto a 655. Proprio ieri a Belluno, ero a Belluno, abbiamo avuto uno di questi casi, ecco perché mi è venuto in mente, di una persona dove gli è stato calcolato un reddito anno che non andava calcolato e infatti gli cambiava la cifra da… Assolutamente, è importante. Quindi ecco, è importante anche, sono importanti anche questi aspetti, insomma. Perfetto, siamo arrivati al termine anche di questo approfondimento. Allora, Giuseppe Di Gerolamo, grazie mille di averci supportato, di aver ricordato queste cose. In buona sostanza, sapete che c'è la quattordicesima, se anche non vi ricordate tutti gli scaglioni che sono stati raccontati dettagliatamente, nello specifico voi potete rivedervi la puntata naturalmente sul web, sul nostro sito, quindi potete ascoltare bene quanto ha detto il segretario, che sono cose molto importanti. Mal che vada, andate, perché sarebbe il caso. Basta andare col proprio codice fiscale, no? Semplicemente. Andate agli sportelli, fatevi fare un bel controllino della vostra posizione pensionistica perché non si sa mai che si sia perso un pezzo per strada. E siccome tutto va chiesto, magari ci sono diritti cosiddetti inespressi che possono essere in qualche modo avanzati e arrotondare l'importo a volte di pensioni, non del tutto, sì, un po' esigue, insomma, e male, non fanno questi soldi in più. Esatto. Allora, grazie mille. Grazie a voi e buona giornata a tutti voi. Noi ci rivediamo dopo la pubblicità, continuiamo la nostra trasmissione con le nostre interviste. Tra poco.